come non dai stef ci sporchiamo tutt'ora mamma paura cioè doveva essere un gioco carino e fa schifo che si fa 3,2,1 e tiriamo quella che abbiamo in mano 3,2,1 e ragazzi io sono ferini e io sono stef e questo oggi andrà malissimo perché stef? perché lo stiamo facendo? allora idea tua non è vero? si? allora il fatto è che vi ricordate il video dei pacchetti di natale uscito a natale ok quindi tanti mesi fa in cui avevamo trovato questa scatola e dopo l'ho ritrovata sotto il letto e gli ho fatto stef ma perché non ci facevamo un video magari divertente? non era sotterrata a caso vero? però poi me ne sono pentite capisci? perché poi vai a pensare bene è realizzato che ti sporchi che ho lavato i capelli oggi e provo a me li riempio io non so se tutti hanno già realizzato però credo che avrò già messo un quadratura qua per farvelo capire praticamente questo gioco è molto semplice si mette la panna qui si devono premere questi pulsanti più in fretta possibile noi due avremo il mento qua e chi perde si becca la panna in faccia allora poi da quello che ho capito noi giocheremo in attacco e in difesa ok ok ad esempio qua ovviamente va da te quindi io devo cercare di fartela scattare tu devi cercare di difenderti e mandarla al centro in modo tale che non colpisca capito? quindi tutto così un po' si metterà da me un po' si metterà da te è un po' strano quello in due stef avevamo quello in due ho capito che quello in uno forse era più carino però noi abbiamo sta versione e basta ok? ce la tentiamo quindi ci state per vedere con la panna in faccia non ne sono felice per nulla almeno è buona si è buona si è di quelle buone posso mettere almeno un attimo si è anche un peccato cioè devo sprecarla così allora infatti mica le sprechiamo chissà quanto tu non la fai no grazie buona? è più buona quando mangi il codile lo sa chiunque e lo so perché se non va fatto però è più buona ti devi anche leccare tutto e poi lo rimetti in frigo e lo ha usato tutta la tua famiglia ok me lo mai bello non fate siamo solo noi due quindi per noi non è un problema allora no vai tu è dalla tua parte stiamo partendo? giochi in difesa aspetta non mi prendo giochi in difesa subito grazie cara perché mi viene l'ansia a fare questi giochi allora non capisco perché si deve mettere la panna nel palmo nel dorso nella mano dietro sarebbe cioè praticamente c'è proprio il palmo ma si monta sono in ansia partiamo prefisco partire allora qua noi non abbiamo la scrivania alta quindi ci tocca farci non ci stiamo aspetta dove ho paura anche io vado 3 2 1 aiuta mi è caduta il caldo mi sento in pericolo ma si è smuttato il gioco Sam oh cavolo ci rivedete lì alla destra è quella tappanna ma che schifo prendi scottex ok li ho portati prontamente questa è la paura di prendersi la panna in faccia che porta a smontare i giochi esatto allora questo è stato sporcato ok 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 vabbè questo te la devo lasciare un po' sporca che dovevo fa che dovevo fa che casino ma qua facciamo finta di nulla vabbè si allora vabbè in modo un po' brutto ma sono sopravvissuta no si vabbè ma ho paura si può giocare solo che l'attacco è da sinistra no si può te lo giuro vedi sta volando panna comunque aiutami ma no non avrebbe senso me lo giuro che senso ha che si può giocare solo l'attacco dalla parte cioè quindi la panna te la pigli solo tu e penso di sì penso che il gioco è che tu cerchi di farmi prendere la panna in faccia a me non piace molto come gioco vabbè magari è che è un casino cambiarci poi lo so allora terrò fermo poi il segnalino non lo so come ci gestiamo boh per ora rimetto panna dai vai facciamo finta che non sia sporco e così via si allora ma ma vedi però aspetta vada a sta parte quindi non lo possiamo abbassare vai giù mettila ricarichiamala qua ma non ha senso scusate la piglia però perché non si sta caricando bene ora cioè perché sta rimando verso l'alto vedi no rimane sempre così non rimane mai troppo in basso si 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 ricarico si oh cavo dai è anche esagerato ma ti so perché devi mettere un pallone di panna allora per il bene delle mie bambi in gioco a cui tu tieni por favor ti conviene andare qua ma me l'hai fatta cadere di te stef si rompono quelle bambole stef aspetta sono bambole da collezione non sono giocato vedi ti prego me la rompi stef ci tengo tanto ok e la vuoi sporcare in panna no ecco tu invece allontanati un po' di qua ce ne sono due perché non so dove metterle quindi ho due bambole lì ok voi non vedete ma sono un po' costose stef vede anche ho preso allora ci siamo si vado andiamo si fai un tema aspetta sta roba lo tengo perché se no rivola allora facciamo che bisogna giocare a premere più lenti ok ok vai vai no no rallentiamo stiamo calmi qui stiamo calmi ma fa un casino sta roba sta cosa mi sta cadendo ok l'ho preso al volo e parti ora ti massacro ora ti massacro stef è rotto ma sono stanca ma io sono immune guarda vai sono stanca ma non è sicuro ti arrivo in fata no stef è caduta la webcam cosa ma da quanto adesso e poi perché i miei calli sono sporchi anche se non l'ho preso a palla non lo so ma fa schifo sto gioco stef direi allora quando nessuno ha preso a panna in faccia non è una bella cosa ci sei? si sto sudando vado mi dispiace vai ma che gioco è ma che gioco è? è felosa sta roba tu sei sporca la strada non ti arriva la panna in faccia non arriva la panna in faccia è quello che era il mio presentimento per quello poi sono rimasto fermo è andata così è andata così stiamo sfasciando la scrivania però facciamo delle palline di faccia di panna e cerchiamo in faccia qua la gente è venuta per vederci con la panna in faccia sono d'accordo e noi non possiamo deludere i nostri fan quindi dammi da palline no una una ne voglio due non è giusto io ne posso avere solo una per definizione ma stef ricordati che ho lavato i capelli oggi e non li voglio rilagare a tua mani devo stare preciso dici come dai stef che sporchiamo tutta la mano mamma fa una cioè deve essere un gioco carino e fa schifo che si va 3,2,1 e tiriamo quella che abbiamo in mano vai vai 3,2,1 non l'hai tirata allora non ti pensavo cavolo ma l'hai stato potentissimo lo so mi hai distrutto allora cavolo stef io sapevo che non dovevamo fare questo video cioè mi hai stato potentissimo ho sentito spluff credo che mi ha schizzato ovunque letteralmente no dai stef mi hai rifatto cadere la bambola che è quella che è quella che è un primario almeno non gli è arrivata la tua panna ringrazia che gli è arrivata la tua panna ringrazia che gli è arrivata il ciappone di panna a lei non è mia caduta da allora raga si sta entrando nel naso stef ci fermiamo così qua sotto compariamo in altri video non dovevamo fare sta roba ma boh dovevamo in qualche modo portare almeno una volta questo gioco sapevo che finiva male in tutti i modi ma non funziona bene quello in due non funziona neanche stato bello speriamo comunque che vi sia piaciuto non che casino stef la mia scrivania qua sotto altri video iscrivetevi al canale campanellino ci vediamo nel prossimo video ciao